È stata una interessante opportunità per saperne di più sul Palazzo Comunale di Città di Castello e su quello di Gubbio, sulla sua storia, sulla sua progettazione, sulle peculiarità che caratterizzano queste strutture e approfondirne la relazione con un'altra delle testimonianze più belle, proprio quelle create da Angelo D'Orvieto. Il Vice Sindaco e Assessore all'Urbanistica Michele Bettarelli a Città di Castello commenta il convegno promosso dal Comune nella Sala Consiliare della Residenza Municipale Tifernate sul tema i palazzi comunali di Città di Castello e Gubbio, modelli per una nuova architettura, sottolineando la notevole partecipazione all'iniziativa e ringraziando per l'organizzazione la società co-progetti e l'architetto Giovanni Rossi, l'assessore Michele Bettarelli. È un convegno molto interessante per contestualizzare quello che è la sede appunto del Comune, il suo palazzo, l'architettura, la storia, come è nato, come si è diciamo anche evoluta le modalità costruttive del suo progettista architetto che è Angelo D'Orvieto, quindi quello che è intanto la conoscenza dei luoghi centrali della nostra città, i luoghi importanti, capire appunto in che periodo temporale è stato progettato e pensato e poi diciamo un escursus sui nostri luoghi ma anche le similitudini con edifici importanti pensati e poi progettati da questo appunto da Angelo D'Orvieto. L'iniziativa ha permesso di approfondire i punti di contatto tra il Palazzo dei Priori di Città di Castello e il Palazzo dei Consoli di Gubbio messi in evidenza da recenti studi che hanno evidenziato come le fabbriche siano la derivazione di metodologie basate sulla ripetizione di unità dimensionali indicate come moduli. La comprensione delle logiche che sono state alla base della composizione architettonica dei due edifici fondate sulla numerologia occulto simbolica ha fatto sì che si sia arrivati a formulare precise ipotesi sulla loro costruzione quindi sul processo e il metodo utilizzato per la loro ideazione oltre che chiarire in modo definitivo la loro attribuzione ad Angelo D'Orvieto. Tra le curiosità emerse dalla discussione che riguardano il Palazzo Comunale Tifernati di particolare interesse è stata quella relativa alla originaria policromia del portale principale che è emersa dai sondaggi effettuati per il restauro della facciata.